Signor Adams, ho un prigioniero. Franklin. Bastardo. Portatelo fuori e uccidetelo. No, no Sam, sono tornato in me, voglio aiutarti. Che mi dici della morte di mio cugino? Le famiglie di Dorchester e la Olnor Church che hai bruciato, piena di gente. Che orrore. Fai come ho detto. No! Vedrete, ci aiuterà. Per vincere dobbiamo arrivare a Washington e Franklin lo conosce molto bene. Abbiamo saputo che è a New York. Ma se ci unissimo i ribelli di Jefferson a Manhattan, potremmo colpire il re insieme. Ma come possa eludere la stretta su Boston? Il porto brulica di soldati. Putnam è via. E il capitano al Boston Neck parteggia per noi in segreto. Di certo ci aiuterà se sarà sicuro di non correre alcun rischio. Quindi dovrà aiutarci senza però esporsi eccessivamente. Potrebbe triplicare la razione di Roma ai soldati. Così poi li troveremo sbronzi al Boston Neck e potremmo passare. E una volta a New York vi sarò d'aiuto. Non voglio ascoltarti! Ho ideato io il sistema per proteggere il palazzo di Washington. Un attacco all'edificio li coglierebbe impreparati. Dimmi come posso introdurmi nel palazzo. Serve un metallo di un peso preciso. Ti aiuterà un fabbro giù in città, uno di cui mi fido. È assurdo. Prenderò il metallo di Franklin e vi raggiungeremo. È una follia, ma spero di vederti a New York. Per la sicurezza di tutti! Pareremo a più per io lì sopra il fuoco. Il re è il nostro faro! Come posso aiutarvi, signore? Mi manda Benjamin Franklin. Ha una richiesta per voi. Franklin? Dice che avete del metallo molto speciale. Dovreste consegnarmelo. Ecco quanto a questo io... Il metallo, prego. È venuto un tizio a farsi ferrare il cavallo. Sono tempi grigi ed ero a corto di ferro. Un uomo deve pur sfamare i suoi figli. Mi spiace, signore. L'avete usato per ferri di cavallo? Già, andava bene. Molto bene. Il tizio era soddisfatto. Lavora alla roccaforte, sapete. No, no. No. È un uomo. Il tizio è da rocca di ferro. Non! No! No. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Non ci seminerete facilmente Andiamo avvistati No, sono qui amico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti